Che con i tanti problemi che ci sono il paesaggio di Venezia sia messo in pericolo dalla sporgenza di una bancarella di frutta e verdura è sembrato troppo a molti veneziani. Quando il signor Santina ha contestato la lettera di revoca della concessione del plateatico del suo negozio di ortofrutta, non poteva immaginarlo, ma attorno al suo caso si sta mobilitando mezza città, tra chi ha gli stessi problemi di sopravvivenza e chi simpatizza con la causa. Una cosa veramente commovente perché mi hanno fermato una marea di persone per strada, insomma molto molto solidale. Nell'area di Rialto la revoca del plateatico non l'ha ricevuta solo il banco di frutta e verdura, ma anche una macelleria vicina, per una vetrina che sporge con un banco frigo e poco più in là un negozio di pesce fresco al quale si contestano centimetri di sporgenza delle bancarelle. Attività presenti da decenni improvvisamente fuori legge, alle quali comune e sovrintendenza chiedono un ridimensionamento che però, per i commercianti, avrebbe serie conseguenze. Sarebbe un danno incalcolabile per noi. Saremmo costretti praticamente a rifusarsi nell'altra attività che abbiamo, sempre inerente alla frutta e alla verdura, però qua saremmo costretti a chiudere. La folla che riempie queste strade non deve trarre in inganno. Per l'80% si tratta di turisti, più interessati all'acquisto di un souvenir che di un chilo di macinato. Turisti che le bancarelle si limitano a fotografarle. E non è un caso che oramai a Rialto si vendano soprattutto magliette, cartoline, cappelli e maschere di carnevale. Gli affari vanno male e ci confidano i negozianti di alimentari, gli abitanti sono sempre meno e la concorrenza dei centri commerciali sempre più penalizzante. Questi negozi di alimentari rappresentano per certi versi una delle ultime testimonianze di quando Venezia era una città con degli abitanti. Allo stesso tempo, ed è per questo che i residenti che non sono ancora andati via le difendono, l'ultima linea di resistenza alla definitiva trasformazione di Venezia in un parco giochi per turisti. Eppure sono additate come di disturbo per il paesaggio. Nel caso del signor Santin qualcosa sembra però muoversi. In questi giorni dovrebbe evolversi la situazione, i pianini dovrebbero essere rivisti e spero di rientrare in quella categoria e che la cosa rimanga, sì chiedo il banco che rimanga con me, insomma non è che chiedo altro.